Il premierato, parte di commentatori e le opposizioni temono lo sbilanciamento dei poteri tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica, in particolare su quest'ultima figura, le chiedo la opposizione. E poi è collegato, l'autonomia differenziata sembra viaggiare su un binario parallelo, la riduzione del divario tra Nord e Sud sarà garantita? Grazie. Aspetti che me le sto scrivendo. Allora, sul tema della riforma costituzionale, guardi, ho già risposto varie volte a questa domanda, quando io ho presentato la riforma costituzionale e il premierato, la prima cosa che ho detto è che noi avevamo scelto di non toccare i poteri del Presidente della Repubblica e non li tocchiamo. Cioè, noi manteniamo intatto il ruolo del Presidente della Repubblica perché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il Presidente della Repubblica in Italia è sempre stato una figura di assoluta garanzia. E c'è a maggior ragione bisogno di quella figura di assoluta garanzia quando domani ci dovesse essere un governo che ha un primo ministro eletto direttamente. Io non vedo in cosa l'elezione diretta del Capo del Governo significhi togliere potere al Capo dello Stato, soprattutto se noi abbiamo scientificamente scelto di non toccare i poteri del Capo dello Stato.